Una data per non dimenticare. Oggi 27 gennaio ricorre la giornata della memoria per commemorare le vittime dell'olocausto. Ricordare è segno di civiltà. Questa mattina a Palazzo Baronale l'occasione per un incontro tra le autorità cittadine ed ecclesiali per trasmettere ai più giovani il messaggio per tenere sempre vivo il ricordo di un periodo tanto buio della nostra storia. Forse per le nuove generazioni il ricordo non è sempre alla luce del sole. Ecco, allora noi che siamo cosiddetti educatori di questi giovani, sia la parte civile che la parte ecclesiale, teniamo fortemente a far ricordare a queste nuove generazioni l'importanza di quello che è successo perché ricordare, riportando al cuore, ecco, queste situazioni possiamo sempre sperare in qualche cosa di nuovo, di bello, di positivo perché noi abbiamo bisogno proprio oggi di questo. Ecco, facendo riferimento a delle belle parole di Papa Francesco, noi abbiamo bisogno di essere artigiani della pace perché questo significa oggi offrire alle generazioni il ricordo, una memoria e il futuro più bello per noi stessi, per la nostra città e per il mondo intero. Il mondo intero che ricorda questi momenti è questo giorno. Noi come cristiani, no, dico, abbiamo vissuto la settimana dell'unità dei cristiani che abbiamo finito proprio il 25 gennaio, proprio che abbiamo celebrato con la conversione di San Paolo. Oggi il 27 gennaio ricordiamo il giorno della memoria e questo giorno dobbiamo portarlo alle nuove generazioni perché tante nuove generazioni non conoscono questi momenti, come ce ne sono tante di memoria in questo mondo ed è bello ricordare, come ricordiamo questo giorno. Ultimamente è stato fatto un aficion sul commissario della Chiesa e l'attore stesso, il figlio dell'attore, disse papà ma chi è della Chiesa? E questo è bello perché lui ha ricordato al figlio ciò che quest'uomo ha fatto per questa nostra patria italiana. E allora vedete, queste memorie ce ne sono tante da ricordare, come ricordiamo questo giorno di questo popolo che ha sofferto tanto ai nostri fratelli ebrei, stare vicino a loro in questi momenti così da ricordare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.